La speranza del povero non sarà mai delusa è il tema per questa terza giornata mondiale del povero che Papa Francesco dà alla Chiesa Universale, indicando come metro di misura, di approfondimento, di preghiera, di riflessione il Salmo 9 nel versetto 19. Abbiamo una fotografia, diciamo così, antica ma anche attuale della condizione del povero. Da una parte è una sorta di lettura della situazione che poi richiama anche un impegno che da una parte viene preso e dall'altra forse rimandato in Dio. Ecco, tutte e due le realtà sono proposte al cristiano affinché si faccia sacramento della presenza dell'amore di Dio nella storia, attraverso un impegno particolare che è necessario che venga preso da parte di ogni credente, attraverso la vicinanza concreta al povero. Ma il Papa quest'anno ci dice qualcosa di più, ossia un impegno fattivo affinché attraverso il cambiamento della mentalità noi possiamo porre un'attenzione piena e costante ad ogni persona che si trova in difficoltà. Ricordandoci anche che la promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all'annuncio del Vangelo. Quest'anno i Vescovi ci propongono un'attenzione particolare richiamando anche la giornata, il mese straordinario dedicato alle missioni. Ecco, l'annuncio del Vangelo nella promozione della persona non è un qualcosa di diverso. Ecco, auguro a tutti un avvicinamento a questa giornata attraverso un cambiamento di mentalità che si esprime nella vicinanza concreta a queste persone.